Let me know We're building it up To break it back down Bene ragazzi, benvenuti su INAB Channel E cariagli scarsi qui con voi SpawnKiller, nello SpawnKiller Time Numero non ho assolutamente idea Perché ho perso il conto Siamo qui in sala d'attesa Perché prima sono andato in una partita già cominciata Quindi ho detto no, non la registro Oddio quartiere generale in hijacked Ragazzi sarà una lunghissima partita Comunque la classe è questa Uno Svuas, Akog, Silenziatore, Presigiatore E una Flashbang era la consegna E sbarretta e basta Però verrebbe assai noioso e assai palloso da guardare Quindi io ci ho aggiunto Anziché una Flashbang Ho messo due Flashbang e due Stordenti Così per fare una classe strana E ci ho aggiunto qualche perk per arrivare a 10 E per arrivare a 10 cosetti lì Slot Ho messo destrezza ma dubito che serva Tanto questo Svuas è America Tigratta Blu ma è rosso sotto anche Vascia a perdere Allora, vediamo qua Oh non sembra un po' un Airflex a fare così Non sono troppo Airflex Wow 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 Hitmarker Eh ma fa sempre Hitmarker Adesso giochiamo un po' più Un po' più seri E vediamo di arare questo qui Ma fa il culo Ma fa fa il culo Sì ma me li rubano quei pochi che riesco a uccidere Almeno lasciateli Ah io ho queste Tieni tutta sta merda Ah ah ti ho preso eh No 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 Oh quattro attacche ragazzi E' poche balle Comunque su PS3 ho scoperto che Ti danno quattro attacche Oh oh qui c'è stato già qualcuno Per farti dire Sì sì C'ho quattro attacchi E hanno il contentino Ma in realtà nei due Nei tre come al solito Ok abbiamo comunicato il QG Quindi allora io mi nascondo Poi faccio il mio agguato E appena la Sono tutti dentro per distruggerlo Faccio una stragione Preso Alleato buono Che che Non so neanche ricompense ciò Che ricompense ho Ah Uav contro Uav Ah proprio come Perché io faccio i nuclei Ragazzi dovete sapere Qui vengono a prendermi sicuro Sono l'unico sopravvissuto Che divertente Dove siete nemici Dove siete Oh tutti da me Devo stare più lontano però qua Oh che palle Non capisco niente E lanciate di tutto amici Oh ragazzi Io faccio il nuclear in live Va bene Oh vi da fastidio No perché sono in serie Quanto sono a due di fila Oh giù giù Non guardare a quanto sei di fila Vaffanculo Migrazione osa Da tutta la lobby Con quattro tacche Migra l'host Infatti si vede come Quelle quattro tacche Erano Quattro tacche Reali Tangibili Adesso Sicuro che c'ho tre tacche io No no Non mi fai neanche vedere i punti Ah comunque grazie Simpatico Beh Ok Lui non gioca Dio bono Se sto gioco ha problemi Ma fammi vedere i punti Orco Giuda Adesso avrò due tacche E non vorrà farmelo vedere Allora le tol Ha tolto il punteggio Ma vaffanculo Oh wow wow Laggiù ce n'è uno eh Quindi lo Ah no è il nostro amico Oh abbiamo già finito i colpi Quindi ragazzi Dopo solo di coltello eh Se per caso finisco i colpi Vedrò di raccattare un'arma Oddio che mira storta che ho Eh C'è neanche stesso pro sotto Io sto QG Tanto mi prendo un MP7 Eccolo Sono fabbic Buono buono Scappiamo scappiamo ragazzi Fuga Dileguiamoci dal QG Eccolo qua Eccolo qua No no Boh sei forte Oh complimenti amico Sei forte Come ti chiami? Non garbatella Ah oh Guarda i punti ragazzi Oh facciamo un applauso al gioco Che mi ha fatto tornare i punti Oh Eh eh questo qui lo prendiamo da dietro Ma sono sempre amici Io vedo i nemici come amici E' il contrario Quell'approvvigionamento non lo prenderai mai carissimo Lol Wow Wow eh potevo camperarci su quello wow Cacchio se camperavo su quell'approvvigionamento facevo mille uccisioni Uccisione confermata No Gli c'era Gli c'era inceppata l'RGXD Lo stavo distruggendo Ragazzi non possiamo continuare a conquistare i QG appena li prendono Se no la partita non finisce più Oddio da basso Vi faccio vedere una cosa ragazzi che mi hanno insegnato Non so chi me l'abbia insegnata Tipo uno Oh vieni qua Se prendi questa la butti giù C'è Diciamo Se per caso loro avessero il QG E sono tutti dentro E tu hai una granata e la butti là dentro Magari fai anche le uccisioni E' figo finisci giù di sotto dove c'è il QG in questo momento Adesso ci provo un'altra volta Oh drone d'attacco qua No non puoi prendere me Ah ok Stava già lampeggiando Allora Mi sono auto stordito No dai 6-8 no ragazzi Adesso Oh vi faccio copertura dall'alto allora eh Allora vediamo se quello che Oh vabbè Questo qua Oh si che funziona Che poi con 4 stordenti tipo una persona muore di solito qua sto gioco Adesso non so quanto fidarmi però A volte Oh dai andiamo a morire Qualcone di copertura Oh ma entrate là dentro ragazzi Se no qua non si distrugge niente Eh neanche gli assist di istruzione mi dai Facciamoci 25 punti Trick shot No Faccio trick shot come camper Allora Ah lui non gioca Oddio Ho fatto triple feed O me l'ha splittata Oh attacco femminile me lo prendo Dai 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 Sono un vero hacker Adesso scappo Adesso scappo Allora siccome Oh uccidilo è buono assist Uav Oh andiamo a fare un giro in gommone ragazzi Uav Non parte Vedere che mi Ok non mi suicido Perfetto No 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 Non c'ho più le stordenti Oddio Oh my god No ma Ragazzi erano Erano in 45 là dentro Andiamo a distruggere Andiamo a se mi dai i punti per il Ma perché Io mica sono morto dopo lo Uav No non mi sta dando i punti Ecco adesso non mi dai i punti Guarda che non mi sale la serie Là sotto nell'angolo Ho distrutto un QG Ho distrutto Ho ucciso tre persone Con un attacco fulminio Dammi di quei 100 punti Magari dopo me lo da sorpresa Per quello però Ah infatti me lo da sorpresa Eh eh Sì ok Finito i colpi Vecce Quanto sto? 12-10 Sono troppo forte Con questo fucile Non Di per sé Non è malissimo Almeno Li spara dritti i colpi Mettiamola così Immaginatevelo Bolt action Bolt action e basta Che spara Corri in culo del barret Che fa sempre il marker Così sarebbe da bestemmie Invece dai Ci sa chi ci fa le Feed headshot Allora vai Che bello sto mirino Mirino Righetta Giù Sì ma è ritardato Nel capire i comandi E poi tutte quelle volte Che tu fai Fagli il drop Che ti fa Boom Si tuffa Oppure Stai per schivare Una bouncing bat Ti abbassi E invece lui Fa il tuffo Rimarinare a un quarto D'ora La bouncing bat Ti uccide Amico tu non capisci più Un cazzo da su adesso Quindi Eh sì però Ti sei nascosto Mamma 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 No non ci credo Dai ma perché mi sballa Così tanto Cacchio ero positivo Prima adesso sono dinonato negativo E cacchio Finisce a 200 250 QG Oh bisogna distruggere ragazzi Che culo Oh ragazzi Adesso Conquistarlo solo noi Eh QG Cosa aveva questo La macchina mortale Mamma mamma Nasconditi Come di nuovo qua Ah ok Li respawnarandomi QG allora Abbiamo scoperto Che non è come la postazione Che postazione Se già del respawn Alla postazione Ti metti lì Aspetti Ti fai 200 punti Ah 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 Dove siete Che bello Quelli che giocano Solo col coltello No 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 Già poi A coltellare Che se lui è sdraiato Tu fai così Non lo uccidi Devi sdraiarti E mettiti alla sua altezza E a colterare verso di lui Quindi è praticamente Impossibile A colterare il suo gioco Poi ci sono quelli Che giocano solo col coltello Che poveretti Tutto quello che vuoi Ma Eh li avevo visti Li avevo visti E vedo anche Le visioni Delle bouncing betty Siamo Dai no no Che palle Ecco è finita Ah no Finisce a 250 Lol Però si va a distruggere Adesso Ce n'è sicuramente Uno lassù Che se la campera Mamma mia Che fastidio Quelli che se la camperano Molto stealth Rubiamogli l'appro Ha buttato l'approvvigionamento In acqua Ma saranno Mangia sassi Questi qua Non sto facendo Un'uccisione Da Da quando ero 12 12-10 Ho fatto 1-8 Di diratti Sto giro Adesso quindi Che due coglioni Io non gioco più Con sto Svuas Cugino là In 30 secondi Guardalo qua Oh se muoio Oddio se morivo Rompevo il gioco Facevo rage quit Instant Trick shot Eccetera Eccetera Adesso Faccio così Non mi vedono Lasciamo perdere Dove sono Oh abbiamo preso il QG Buona ragazzi L'ha guato come prima L'abbiamo preso solo all'inizio Dalla fine il QG Siamo proprio scarsi Dai ma me li rubano Anche Faccio gli agguati Io sono troppo Pua Giù 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 Via 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 Buono Oh quello non mi vede Non mi vede Ma si gira e mi uccide Sì Le mie 4 tacche Più fasulle Della storia Sì che questo fucile Non aiuta però Da quando ho detto Che è un buon fucile Dopotutto Ho fatto solo pippe E qui era impossibile Scamparne Quanto sto 15-21 Dio po' Qua La Su Giù No dimmi doveri però Dimmi doveri No perché i miei colpi Non ti arrivano Oh che nervi Eh abbiamo perso Che palle Però dai Oh ragazzi Bella partita L'idea era buona Come classe E inventatevi Una bella classe Da consigliarmi Perché hanno vinto Questi figli Di mignote Lupara Assassina Supero The King Spe Se Se Pesus Angelo Codice fiscale Don extreme Manolo Garbatella Cos'è la sua connessione Comunque La partita La partita La partita è andata E' andata molto bene Però Fa lo stesso Dai Insomma Il bello Non è vedere io Che uccido la gente Speriamo E Ho fatto qualche Ho fatto triple feed Ah è Uccisione triple Ragazzi triple feed Da mettere Da scriversi giù Ehm Niente Consigliatemi una classe Magari Però te Consigliarmi Classi in cui Si gioca un po' Anche su sensibilità A camp E gli viene in mente Tipo la mira assistita Togliere la mira assistita Giocando con Un cecchino forte A sensibilità alte Per vedere cosa succede Qualcosa così E anche un po' Di diverso O usare armi Che non si sono viste Nei vecchi Call of Duty Non consigliatemi Il solito Fucile a pompa Silenziato A meno che non sia Un KSG Che non ce l'ha neanche Quindi vabbè Ehm Bella Bella Spock Killer E alla prossima